Ma guarda questo? Oh, guarda che pare che non abbia fatto neanche una consegna. Dai, su, andiamo. Muoviti. Muovi, piano. È stata una nottata dura. Come la vasca. No, 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 no. Un momento. Ora la sposto. E poi domani con calma va alla posta a pagare la multa. L'avevo parcheggiata qui solo cinque minuti. E quindi? Le faccio uno sconto? Ecco qua. E invece di pensare a delinquenti che fanno le rapine. Evidentemente i delinquenti non parcheggiano davanti alla fermata del volman. E si sbrighi. Altrimenti le faccio fare la fine di quella macchina là. Ma è la macchina di papà. Dai, ho detto che lo trovavamo. L'ha parcheggiata a Babbo Natale. Ha detto che tornava dopo cinque minuti. Sì, ma non si è visto più. Mi ho fermato qui da quattro giorni. Ma cosa può essere successo? Ma no, uno come lui. Eh. Qualunque cosa. Unio. Paolo now. Paolo now. Ma no. Peoria. Grazie a tutti.